Voglio dare un'informazione a un esponente politico milanese, il quale è sempre disinformato per le questioni che riguardano il Sud. Non voglio fare nomi, diciamo, è un esponente che va in giro in questo periodo per l'Italia per farsi guardare gli occiali nuovi che ha comprato. Occiali color pannolino di bimbo. 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 Pannolino di bimbo.